Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti o bentornati a tutti voi, mi sono Sembra Domingo, oggi porto Zed in session 11 Porto Zed, proviamo la Drakhtar che da quello che ho visto, non devo urlare perché altrimenti il microfono mi sminchia l'audio Da quello che ho visto, la Drakhtar rende invisibili, praticamente adesso il marchio della Drakhtar quando esplode fa diventare invisibile il portatore della Drakhtar Per qualche secondo, oggi la proviamo con Zed, proviamo anche altri item, vediamo un po' il nuovo negozio Vediamo un po' se ci garba o no, o se droppiamo League of Legends per sempre Allora, Spirit Blowson, Yasuo contro, questo è un po' uno skill matchup, vediamo un po' se riusciamo a vincere contro Yasuo Io vi ricordo sempre che sul canale trovate una serie di guide specifiche per i champion Ho fatto una serie di video dove vado a consigliare dei champion facili per chi inizia a giocare E streammo anche su Twitch, domingo trattino basso, TG, se ti va di seguirmi anche in live Adesso giochiamo con Zed contro Yasuo, questo è un nuovo negozio Adesso gli oggetti vengono classificati come quelli da start, ovvero gli oggetti basici, epici, leggendari e mistici I mistici se ne possono buildare solo uno E quando andiamo a prendere, cioè nel negozio c'è una stellina sui oggetti consigliati con il determinato champion Questo può essere utile per chi inizia a giocare e non sa cosa buildare Alcuni oggetti sono stati cambiati, alcuni oggetti sono stati reworkati e altri sono stati cancellati Detto un po' tutto, farò un video al riguardo con i nuovi item, adesso iniziamo Comunque ho fatto tantissime guide con Zed, magari se vuoi sapere come giocare Zed o vuoi dei consigli Ti rimando a delle guide che ho fatto sul canale Ho fatte due o tre specifiche per Zed Se ti interessa, tutti i link alle playlist in descrizione, ripeto C'è il tornato Ma non mi prende Non lo usa neanche per pushare Aspettando la E che... ho dovuto fare forza flash perché non avevo l'ombra Ho sbagliato a maxare, a maxare due volte la E E due volte la Q, lo usa Genius, sto intendo Sto intendo, non c'ho ancora l'ombra a livello 4 Ci consiglio anche quest'altro, però in questo game voglio provare appunto lo Zed invisibile Comunque stavo dicendo farò anche un video dove parlo di tutti gli item Andiamo avanti Vediamo con precisione tutti i nuovi oggetti Mi ha preso stavolta E ho fatto tra l'altro già un video su tutte le rune Se ti vuoi interessare ti lascio il link in descrizione Un video dove parlo Mi ha preso Di tutte le rune Mi devo un po' concentrare più sul game Ce l'ho usato un po' in finocchiato Nice Ho notato che adesso la Yomu Hanno inserito L'ama di Yomu Lo sta Eccola, hanno inserito un altro oggetto per buildarla E hanno tolto uno Prima si buildavano due queste Che ti faceva Che ti faceva questo E poi andava in Yomu Adesso invece è cambiato Hai sbagliato questo Adesso posso beccare C'è Malphite Io non mi faccio ultare da Malphite E successivamente da due Sì, l'ho fatto fare L'ho fatto fare ma ci stava morire Yasuo Devo fare un video con i tank Cioè in realtà voglio provare Qualche partita con i tank E vedere i nuovi oggetti Come funziona E in più farò un video su tutti gli oggetti Come ho detto all'inizio Yasuo mi sa che è tornato No 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 Ah, blocca pure questo oggetto E' praticamente Lissandra St'item Cioè praticamente la E di Lissandra Simile L'attiva di quell'item L'ha messo su Malphite Buona per gancare in realtà E qua E stai un po' ferma Madonna Ah che caise Hanno cambiato anche Il colore ai golem gemelli Fate quest'altri No, devo andare a vedere se solo quelli lì I nemici sono stati cambiati Però hanno cambiato il colore a tutto Ho fatto piccoli cambiamenti che non hanno annunciato Tipo questo Ah sì, hanno cambiato il colore dei golem gemelli Non sono più blu ma gialli Non dovrebbe essere cambiato Il Giorgio adesso ha uno scudo O die in darkness Non ti lascio mai su ragazzi Grazie alla Dractal Adesso anche lui Per qualche secondo Non so quanto possa fare la differenza Ma secondo me Potrà essere utile Non oso immaginare sul champion Come Talon, Akali No, Akali e la Dractal Non abita Però Talon, Rengar Kha'Zix Tutti questi che già hanno un'invisibilità nel proprio kit E si ritrovano ad averne altra free praticamente Ok Ok Abbiamo sceso Mi sono preso pure un hit di torre in realtà Se non mi sbaglio Ah ok Questo è il Lord Dominic Il Memento Mori non vedo Sai che l'hanno tovo Ah, Mortal Reminder Ok Questo è il Memento Mori Questo è il Lord Dominic Gli hanno cambiato l'immagine Ma sono loro Ok Ok Perfetto Alla fine basta solo guardare bene Gli oggetti Ci sono Hanno tolto L'Helmo ad attivo Non vedo più L'Helmo ad attivo Ombre Gemelle Manco le vedo più Mi sa che l'hanno tolto Ah era figo il problema ad attivo Contro Timo E che usi adesso contro chi ti fa Cioè contro Timo Contro Tutti questi che Fanno un sacco di abilità continue Che hanno danni passivi Tipo Sinjet 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 Non so mai come pronunciarlo Timo Cioè quell'oggetto era fatto apposta A meno che non hanno cambiato l'immagine Adesso non lo vedo Io direi di chiudere il game Arriveranno sicuramente altri video Nella prestagione Sul PBE Ci sono caso Stavo dicendo arriveranno sicuramente altri video Non voglio farmi uccidere Ok la partita non è chiusa Non si è chiusa ancora la partita Comunque farò sicuramente altri video sul PBE Sulla prestagione Arriverà il video sugli item Sto preparando una nuova serie E niente Se vi va di seguirmi anche su Twitch Mi trovate su Twitch come domingo NatinoBastoDG Ringrazio tutte le persone che si stanno iscrivendo Siamo quasi a 1000 iscritti Non ci posso credere Arriverà sicuramente uno speciale 1000 iscritti Non so ancora cosa fare Ma lo farò Mi invito a commentare A iscrivervi Ancora E a lasciare like Se vi piace ovviamente Quello che porto su Su Youtube E se vi è utile Mi vado a prendere l'inibitore E chiudiamo il game Dai Ne è durato anche troppo Stavartita 30 minuti Ok Sa che game è chiuso Dai Double kill C'è Samira Ah volevo io la kill Vabbè Per questo video è tutto Like Per supportare il canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Da domingo Arriveranno altri video Di nuovo In prestigione Ciao a tutti